Alla casa penso Eccolo infatti alla casa Dentro il balconcino Oh accanto a me ce l'ho Mamma come ti ho ponato la vita Lucia l'hai vista? Sbrigati 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 Corri Abbiamo solo perso tempo Mi sa bro No c'era un'altra Ah no c'era Stiamo andando velocissimi Ha funzionato davvero Non ci credo Ha funzionato davvero Alla sto punto Ah tu stai qua lo già Si mi sto prendendo andando Guarda che ho il tele Questa è andata da davanti Dai dai Regami sono fatto una quadrupla Wow Ah da dietro Ah un altro team resurrect Motto Min Nonna Non Fatte Presidire dry Allora Sul serio stanno facendo questi ce n'è uno qua dentro da solo mi sa vedi no non voglio prendere danno no non ammazzo me ne vado in safe me ne frego vabbè ma non fai un poverino stava da solo cagato in mano che faccio la pazza mi sentivo in colpa mi stava simpatico stoccando a my little pony la sinistra ce l'hai zio a sinistra ce l'hai più vicino a sinistra ce n'hai uno più vicino bravo ritorna dentro girati girati giro che guarda sempre scuola smacco si lo vede ma non vedo più un mo così questi muri eccolo bellissimo a me la cosa 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 si fa la marca ma se uno stronti di chi non si può chiamare c'è la cosa io gli do un'arma e me ne vado minchia giova domanda da nascondare l'altro stiamo si vale che il su gente che mi spara non su gente che che chiede aiuto cosa mi hai ricordato lucia all'inizio ma come vuoi a sapere che stava chiedendo aiuto perché la sua data a questa ma se questa la voglio sentire che è successo eh cavoli quello è raga facciamo le chi era gaudo davanti a me veramente adesso ah ok dove io sto davanti a te ah infatti aia 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 colpi 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 non è raga c'è n'è un altro è da me che sto parlando io dove avete colpito è molto veloce vero spero di sì io ho fatto una brutta figlia io mi devo curare io ho un medico la c'è uno scudino luciao c'è uno scudino la dietro io voglio i medici io 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 oh regà da sopra ci sparano spara no da 120 mi sa una roba del genere come 120 ecco si 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 raga raga da prima mano per favore dove stanno raga io li ho curato raga 5 dove non li vedo bro dove stanno ah eccoli raga non ho niente ok l'ho preso 187 in testa raga 1 salva rete le gasta devi attenti anch'io c'ho la jump bro veniva a pusciare andiamo a pusciare o saliamo sulla montagna saliamo sulla montagna guarda ok ma mia mamma è il gran figlio di gioco guarda sono frutta eh si non sono riuscito a salire all'ultimo sulla montagna no regà hanno usato il teleport regà teleport no regà io metto la jump qua sopra me ne vado si andiamo ce la fate ah non se ne stanno andando loro regà bugia ok andiamocene dove andiamo andiamo insieme frega ah si perché dobbiamo andare inserita raga prendete le sfere servono le sfere per forza dell'oscurità prendete queste cose vedi i cubi di sfere qui le sfere dell'oscurità la droga ragazzi c'è uno con le portate c'è uno con le portate raga dove lucia arriva in volta a voi di ciò morire di ciò morire regà andate avanti andate avanti regà andate avanti ma porca troia dove sta lucia nooo ma sul serio ma sul serio ma sul serio stanno facendo cioè mo dobbiamo perdere ma dai sul serio aia ma ma porca troia non è possibile fermi no no ok non è morto no ragazzi non so più col cazzo che mi prende un coglione ma li hanno restati ma dai ma come quali che farei male butta lì le bombe uno sta arrivando ah ma sono due team diversi e vabbè addio già va bende prendi il medici oh no c'è la c'è la prenditura ma che cazzo devo discutere anche del fu del taplano dove va sei un po' e scherzando è il mio preferito ma che problemi ha hai pietà dei nemici è il del taplano con le faccine oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo lo so no però che fugotto che ho fatto c'è la puoi fare si ma ne ho uccisi 4 e ho solo 2 kill parliamone ora no pensa ad eliminare ma dove sta sta qua accanto a me oh cazzo ah lo vede ah lo vede ah non ci credo veramente ma veramente prendi il cecchino prendi i cecchini stupra gli altri ah mo ti metti nella ah 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 ma ti metti nella mi tolto la cosa posizione no veramente giova vera dove stanno assurdo ma io me ne vado è meglio che te ne vado ah ah eccolo se fosse stato a far valore se fosse stato vicino ma ti metti è una parola ma che mazzata che ho preso dimmi giù no passa passa ci sei tu per lo tuo che avevo lo scudo sarei morto tantissimo ti mando lo sguerro da qui ciao ciao mie quelle mie tipo una dove me ne vado rega oggi mamma mia giovanni mamma mia tanta roba ragazzo me ne vado bo ma che vinci sto a destra a destra sta un coglione che sta camminando in cielo spacca lì dove ma che dove qua sinistra oh vedi qua ma non penso ci sia qualcuno eh qualcuno va a fareci c'è qualcuno da quell'altro ah ecco lì ma c'è chi no c'è chi non lo tutto ne va non li prenderò mai lo sai vero vanno jumpando entrambi no lascia 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 dai vabbè ci ho provato giovanni c'è la col mondo intero e con nessuno sono un faietatore sono però a fietà di quelli da solo no bello eh giuro che cosa fai lì si spezzano crack quello è Gesù comunque quella app mi so che fa un rumore più brutto di crack eh vai approcati veloce sono sette persone li posso uccidere tutti prometto metto sì sì ma è arrivato oggi sì però cadi o cazzo la sì e io ciao fatti muro e la quale fuori ora stai già nel testo a tutta domanda quello di verifica ah ah è morto era che quello mi fa la giampa e vado a fare anche la nuova porta tutti ci volevo hai ragionati la mia tutto l'albero mamma mia johnny tantruba mamma mia johnny Oh cazzo Tanta roba Gianni Prendi il bar Dove sta? Sta là, ho visto una cosa di ora Merda Oh cazzo Eh no Si vedono bene Mi reinato però, questi non vanno tri Ma sono faietando, regà Oh Ciao Ciao Che c'è? Ah sì Oh cazzo No No Ma è un armare che lo sei sentito Ma è un armare che lo sei sentito No 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 Non ho mai quest'arma è da evitare a prescindere Si Vai nel ponte, vai nel ponte Calma raga Boh se è così è diventata una partita Si raga è uno contro uno contro uno Raga uno contro uno contro uno Partita squadra Fun Comunque buonasera 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 No eran nemici miei Oh due fio di frase oh il l'uva più un tocco vince uo oh poteva non mi soccifero ok non sei safe ok non ti farò che si fa ciao ciao vince si tutta la giornata ok la foto da 50 giovani serve prendi il medici te va ma quanti mi hai ucciso si con calma una parola sto giocando di merda non 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 mi non 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 Mamma mia tira giù la poca No 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 Let's go Let's go Guarda come contenta Camo Che culo all'ultimo l'ho visto all'ultimo secondo La mia speranza se non si fosse suicidato sarebbe stato buttarmi su di lui E sparare col pompa a caso mentre morivo di caduta La miaнакcia La miaнакcia La miaнакcia Ci chiudde